Ragazzi, avete una sosta di un'ora, di mezz'ora, di due ore all'aeroporto, alla stazione, alla fermata degli autobus? Che vi state fermi? Cacchio, c'è una città da scoprire! Infatti, l'obiettivo mio è questo qua, proprio girare sul Mona in un'ora e calcolate che non ci sono mai stato la prima volta che sono in questa città una volta sono arrivato sempre alla stazione ma era un altro cambio e da qui nasce proprio questo format Ok, sono le 9.10, sono appena arrivato alla stazione di Sulmona ho il treno alle 10.25 per Pescara quindi ho poco più di un'ora per poter girare la città prendiamo la mappa e vediamo in un'ora cosa riusciamo a fare 9.11, diciamo che per le 10.10, fra un'ora precisa, devo essere di nuovo qua qui alla stazione una cosa che cerco sempre è quanto è grande la città prima di arrivare Sul Mona sono circa 22.000 abitanti l'ultimo censimento che ho trovato su Wikipedia, su Google è questo vediamo un attimo, su Google Maps velocemente Duomo, Cattedrale, Centro Storico e da qui pianifichiamo un piano Cattedrale di San Panfilo, Panfilo, non so come si legge iniziamo con le figure di cacca e qua io sono... dove sono io? Porca miseria! la stazione è un po' fuori da Sul Mona però mi sa che si può arrivare e poi una volta arrivato là, questa è la cattedrale direi di andare verso il centro storico su Google Maps riconoscete il centro storico facilmente perché è la zona più giallina anche se è piccolina, 22.000 abitanti non so come si estende diciamo l'area sì, ciao a piedi 21 minuti, ah ok, 21 minuti tutto dritto per dritto 17-18 minuti dovrei arrivare avviamo anche la camminata sportiva come allenamento così registriamo anche un po' di dati configurazione doppio zaino oggi cellulare a mano sinistra, camera a mano destra e iniziamo quella è la stazione sto già scoprendo quali sono le difficoltà di questo video avere lo zaino, la camera, il telefonino tutto da controllare col microfono dovrò trovare un setup molto più leggero comunque di fronte alla stazione ripeto, qual è la stazione? di fronte trovate questa carina chiesetta e girando a destra quindi di qua sempre dritto per dritto come dice Google Maps circa 20 minuti a piedi arrivate alla cattedrale un format del genere perché timido come me va benissimo è impossibile passare inosservati fidatevi, un cretino con lo zaino così con la camera in mano e il telefonino dall'altra parte porta 18 minuti effettivamente non c'è qualcosa di bello da mostrarvi ora qua è un semplice viale alberato con una strada principale penso che porta al paese l'obiettivo come vi dicevo poco fa è quello di mostrarvi effettivamente è che soprattutto se siete veramente amanti dei viaggi quando avete un'ora come ho detto poco fa di sosta per un cambio treno a una stazione se vi trovate in una città che non avete mai visto vedete da cavolo quindi questo è l'obiettivo del format diciamo e poi mostrare appunto che è possibile perché questa è una cosa che io faccio dal 2018 da quando mi sono trasferito a Londra ho aperto questo canale perché volevo parlare di viaggi e scambi culturali e per ogni video vedrete curiosità se avete notato qui sulla schermata trovate in alto a sinistra tutto quello che registra lo smartwatch quindi passi, calorie in basso a sinistra c'è la mappa di Google Maps che utilizzo quindi potete vedere effettivamente come mi muovo con ogni sposto e come decido quali sono i posti da visitare in basso al tempo e poi mostrarvi la città in poco tempo insieme a me siccome la prima puntata dovete avere un bel po' di pazienza come sto cercando di averla io perché fidatevi che è molto più difficile di come me l'ho immaginato due zani una camera e un telefonino e uno smartwatch da tenere sempre sotto controllo mamma te le batterie però va bene vediamo se ora si tiene bene ok ho capito anche un'altra cosa quando voglio fare questo tipo di video questo zaino non si può usare perché mi scivola sempre la bretella e io devo stare col braccio alzato se no che riprendo contestualizziamo un attimo la giornata sono partito dall'Aquila e sto tornando a Lecce per le vacanze di Natale quindi avrò appunto due cambi del treno il primo è questo a Sulmona poi avrò il secondo scala a Pescara e quella sarà la seconda puntata quindi non ve ne parlo adesso ora vedendo che in 20 minuti di Google Maps fidatevi cioè se Google Maps vi dice che è quello è quello poi per quanto riguarda la camminata a piedi in base al vostro passo capirete se effettivamente sono più o meno minuti io ormai ci metto sempre di meno rispetto a Google Maps tutto ciò però io sono un po' in ritardo video doppio zaino è una nuova sfida per me dal 2018 non mi ero mai trovato in questa situazione per raggiungere il centro della città ovviamente il paesaggio intorno a noi ci ricorda che ci troviamo in Abruzzo oddio forse di là non si vede bene ma è pieno di montagne tutto intorno a montagne la natura qui in Abruzzo è una cosa assurda no vabbè ma guardate che spettacolo qua io così perdo tempo prima di arrivare in centro storico a proposito visto che sto vedendo Sulmona finalmente perché io da un anno e mezzo che vive in Abruzzo ancora ripeto non c'ero mai venuto so che è famosa per i confetti volevo farci un video per la rubrica invece l'ostina Abruzzo quindi buh se qualche sulmonese spero di aver detto bene mando tante figure di cacca a sto giro è interessato ad aiutarmi per fare un video ritorno qua mi sa spiegare un po' la storia di Sulmona ma soprattutto la parte dei confetti perché so che è molto famosa per questo e quant'altro insomma magari contattatemi qua sotto nei commenti perché ci voglio fare un video non per la rubrica travel ma proprio l'ostina Abruzzo ok da Google Maps mancano circa 4 minuti infatti già si vede che quella strada diciamo alberata sta per finire e lì c'è un accenno di città ehi lupalo appena arrivate in città questo è quello che vi trovate venendo dalla stazione ovviamente quindi quella è la cattedrale di non mi ricordo il nome lo metto qua sotto in descrizione ma più che altro so che lo pronuncere male Google Maps che non mi va di prendere l'ora dal telefonino dice che devo attraversare di qua e andare là dietro per vederla da davanti se mi faranno passare cosa che dubito io devo andare di là però guardate che figo di là no vi ho detto c'è mamma mia la natura qua è qualcosa di formidabile veramente in Abruzzo se non ci siete mai stati venite attraversiamo dobbiamo andare di fronte alla cattedrale prima che mi mettono sotto mi sono dimenticato di dirmi un'altra cosa io sono super mega iper curioso quindi quello che mi dice Google Maps non lo rispettorò spesso se vedo delle cose che mi interessano vado vicino e cerco di capire per esempio qua c'è la statua ricordo della storica visita pastorale di Papa Benedetto XVI a Sulmona il 4 luglio 2010 a diocesi di Sulmona vabbè praticamente c'è la statua dei Papa Benedetto XVI continuiamo la strada andiamo davanti come dice Google Maps e poi facciamo un attimo il punto della situazione ok sono qua quello che mi piace è che di fronte alla Basilica c'è la villa comunale infatti lo dice pure Google Maps qua abbiamo la villa comunale allora mi devo fermare un attimo e fare il punto della situazione in base all'orario cerchiamo di capire quanto posso vedere prima di tornare alla stazione sono le 10 meno 20 io le 10 e 25 tengo il treno quindi 20 minuti per tornare significa che io le 10 massimo devo ripartire da qua la Basilica è stata di me davanti c'è la villa comunale quindi siccome il mio obiettivo era vedere quanto più possibile volevo pure mangiare non ce la faccio mangio mangio nel treno se no non riesco a registrare effettivamente se registrare mi frega molto tempo ma vabbè tutta esperienza quindi ora cosa facciamo qua mi trovo sulla villa comunale vado dritto per dritto fino a dove dice qua confetti pelino e voglio dare un po' il centro storico vediamo se c'è qua palazzo museo civico archeologico insomma andiamo al sentimento ho 50-20 minuti per girare un po' il centro storico e poi tornare qua per poi andare di nuovo in stazione riprese tutte storte vabbè la Basilica alle mie spalle questa è la villa comunale la spacchiamo tutta andiamo dritti e dritto per dritto arriviamo al centro storico ho deciso che proprio per ottimizzare i tempi accelererò riprenderò quello che è il mio passo naturale vi spiegherò meno di quelle mie circolata perché poi io così faccio non è che arrivo e dico ah quali sono i posti da visitare in un'ora no magari ho due ore tre ore di pausa per un cambio di autobus treno aereo beh dici allora mi informo pur se sarò tutta in una città più grande ma per come sono io di indole mi piace girare guardare quello che mi ispira controllare poi con google maps vedo il tempo restante e così capisco quando torna alla stazione e questo è quello che faccio solitamente quindi è quello che farò ora 20 minuti vado dove mi porta il cuore mi trovo verso la fine della villa comunale questa strada in fondo dritto per dritto vi riporta alla stazione e da là inizia vedo già il centro storico meglio tardi che mai ho trovato la configurazione col doppio zaino per camminare mentre vloggo e comunque avere un audio decente e poter utilizzare il smartphone in contemporanea finita la villa beh vi trovate questo davanti sì uno mi ispira di più quella via rispetto a questa anche se qua c'è questo bel monumento dietro le montagne però pure per semplificarmi tutto il viaggio di ritorno continuo di qua perché è sempre quella strada vi dicevo dritti per dritti per arrivare alla stazione qua ormai siamo in pieno centro storico sempre per il discorso ai cacchio contro sole ora starò no dai si vede abbastanza bene quindi sempre per il discorso del ottimizzare i tempi visto che ancora non sono molto pratico a gestire sia la camera che il telefono tenendo a mente che ho la reale possibilità di perdere il treno andrò così a sentimento sulla strada principale mi affaccio su queste vie perpendicolari parallele e quelle che mi ispirano le vedrò poi appena si fa una certa torniamo indietro veramente a pochi passi dalla villa si arriva qua vediamo cos'è da google maps questo è il palazzo della chiesa della santissima annunziata che è molto bella devo dire ok da qua si vede meglio questa è la chiesa col palazzo di là è da dove sono arrivato quindi lì in fondo c'è la villa e sempre la stazione di là si continua per il centro storico però stavo guardando pure questa viuzza qui a fianco per vedere pure un po' com'è diciamo l'architettura del centro storico però andare in fondo non mi sembra che si esce da qualche parte interessante quindi proseguiamo sulla strada principale che bello io faccio vedere l'albero tutto ciò sono le 10 meno 10 quindi ho 5 minuti per andare avanti e poi per tornare indietro montagna in fondo questa è sempre la via principale qua c'è questa piccola piazza purtroppo diciamo non so la si vede che è un palazzo storico però ci sono le costruzioni andando in fondo sempre per il corso principale ho visto una piazzetta che mi ispirava quindi arrivo almeno fino a là e poi vediamo l'orario ma credo che sarà tempo di tornare indietro infatti avevo detto bene alla fine c'è questo acquedotto medievale penso che questo sia veramente tipo la piazza centrale il punto più centrale o importante dico penso perché ragazzi non ho una guida turistica come per la prima volta che sto in questa città per vederla bene questa è una di quelle città che anche se sono piccole un'ora non basta credo che il problema principale è perché comunque la stazione sia 20 minuti distante dalla città ed ecco la piazza centrale io la chiamo così perché è quella che ho trovato ora più grande devo provare a scendere a farvela vedere da sotto perché è troppo bella ok questo è sempre l'acquedotto un po' troppo sovraesposto ma è pur sempre l'acquedotto la piazza centrale peccato che ci sono un fottio di nuvole perché là c'è una montagna però c'è lo scenario veramente bello ok come stavo vedendo pure su google maps questo è piazza Garibaldi in tutto ciò però sono le 10 meno 5 se accelero il passo in 5 minuti ritorno alla villa e quindi poi da là 18 minuti dritto per dritto dovrei volare verso la stazione però peccato volevo vedere pure quella chiesa di dentro adesso inizia la maratona torno alla stazione ok quella alle mie spalle è il corso sono appena uscito dal corso quindi ora che bello pure di lama tutte le vie sono bellissime ho detto volevo tornare per le 10 e un quarto la stazione è impossibile questa è la villa alla mia destra quindi dietro di me c'è il centro storico dritto per dritto dritto per dritto c'è la stazione cerco di accelerare un attimo il passo sto un po' contro sole spero si vede allora google maps mi da arrivo alla stazione alle 10 e 20 non va bene perché in tutto ciò devo comunque chiudere l'attrezzatura cercare il binario non è un problema la stazione è abbastanza piccola quindi qualsiasi binario sia lo raggiungo in 30 secondi un minuto va benissimo una cosa che mi sono dimenticato di dirvi all'inizio qua sotto in descrizione trovate il file che adesso non mi ricordo come si chiama gpx mi sembra del percorso che attualmente sto facendo ecco perché ho registrato l'attività con lo smartwatch in modo tale che tutto il percorso che mi avete visto fare in questo video ve lo potete scaricare e riutilizzare direttamente su google maps o su qualsiasi altra app dove potete utilizzare questo tipo di file in questo modo potete andare diciamo a colpo sicuro a rifare perlomeno il percorso che ho fatto io adesso lo so che magari probabilmente molti di voi saranno dicendo eh sì vedere sul Mona o comunque una città in un'ora è impossibile tu vai sempre di fretta non te la godi neanche il mio obiettivo non è dire sì una città di 20.000 abitanti ve la vedete tutta in un'ora anche correndo l'obiettivo è invece di stare un'ora fermi in stazione caspita potete andare al centro di Pescar di Sulmona e farvi un selfie una foto là ricordo là insomma cioè comunque immeggervi un attimo nella natura anche se qua non sembra tra macchine e case la differenza qual è che io arrivo sapendo zero voi magari avete visto sto video potete già scaricare il file che vi metto qua sotto in descrizione per rifare il mio stesso percorso su google maps non dovete stare a pensare alla camera allo smartwatch al telefonino a tutto il resto e quindi potete godervi un centro storico di Sulmona anche in un'ora lì c'è quella chiesetta di fronte alla stazione che vi ho mostrato prima si chiama chiesetta parrocchiale della madonna del pellegrino pure qua sono stardina cazzata metto il la scritta giusta in sovraimpressione arriverò alle 10.20 alla fine volevo arrivare qualche minuto prima l'obiettivo era alle 10.15 non ce l'ho fatta va bene la prima esperienza a provare a vloggare una cosa del genere le conclusioni sono queste uscite dalla stazione la chiesetta a destra sempre dritti arrivate a piazza Garibaldi centro storico avete un'ora e mezzo io ve lo consiglio vivamente vi prendete un caffè in centro un gelato vi fate qualche foto e poi ritornate alla stazione come ho detto a piedi è fattibile prendete un po' d'aria vi muovete un po' ci sta pure un po' di ore nel treno è tutto ok se vi fa di supportarmi di aiutarmi con questi lavori per continuare questa serie di vedo la città in un'ora in mezz'ora in due ore cosa fare in un'ora eccetera eccetera iscrivetevi al canale lasciate un commento tutte le cose che si fanno solitamente su youtube soprattutto iscrivetevi ecco la stazione aspettate che si legge ecco qua stazione prima di entrare volevo dirvi che ci vediamo con la prossima puntata a Pescara dove sto andando per adesso fra poco avrò lì quasi due ore e un quarto di fermo di cambio vedremo che succederà là lo scopriremo solo vivendo non ho proprio idea di cosa farà Pescara perché in realtà non è totalmente nuova per me quindi non ci ragiona nel treno grazie a tutti